Da Rio a Cosenza vi accomuna un'Olimpiade vissuta da protagonisti, ma soprattutto l'ambizione di poter fare ancora meglio. Parliamo del tuffatore Giovanni Tocci e della palanotista Francesca Pomeri, premiate a Cosenza dopo i risultati ottenuti a Rio. Per Tocci è arrivato un grande sesto posto che va alla qualificazione alle World Series, per la Pomeri invece una medaglia di argento che può essere considerata davvero storica per il 7 Rosa. Sono molto soddisfatto perché il sesto posto vuol dire la qualificazione alle World Series, vuol dire sicuramente gare in più, quindi acquisire un po' di esperienza e un po' più di nome. Nel senso che comunque il nome ne tuffi conta perché i giudici conoscendoti magari riescono anche ad alzare un po' di più il voto. Siamo contenti per quello che abbiamo fatto, è stata un'esperienza magnifica e sono contento di essere qua nella mia città appunto a festeggiare quella che è stata la mia Olimpiade. Non sono originaria di Cosenza, però quest'anno ho militato nelle squadre del Presidente Manna e mi fa piacere, spero di aver onorato il Presidente e tutta la città con questa medaglia. Peccato la finale, ma quando si arriva a questi livelli e si incontra un avversario così forte bisogna anche avere l'onestà di dire io ho dato tutto, tu sei stato più forte, complimenti.